Ciao a tutti, ciao amici e bentornati in questo nuovissimo video di Perla Gattiti Io sono Vale, come sapete benissimo io ho il mio gatto di nome Perla ovviamente che è la mascotta del canale però era il mio unico animale e io ne volevo avere un altro quindi mia zia ha detto che una persona che conosceva le erano nate tantissime tartarughe neonate allora io mi sono un po' tipo intenerita di questa situazione e i miei genitori mi hanno permesso di prenderne due quindi adesso ve le faccio vedere sono tutte due maschi perché femmina non c'era guardate sono in ciabatte in questo momento sono queste qui, sono piccolissime ragazzi guardate sono grandi quanto una mamma circa e sono davvero piccolissime adesso non posso tirarvele fuori perché ho paura di farle male poi uno sta dormendo si chiamano Teddy e Oliver aspetta, questo qui è Teddy e questa è Oliver e vabbè c'hanno l'acqua, un po' di mangiare e Oliver è sveglia però in questo momento ragazzi non le vorrei prendere in braccio perché avrei paura che, cioè di farle male più che altro sono piccolissime, cioè la mia mano a confronto è gigantesca ma ragazzi comunque io ho fatto questo video solo per darvi questa informazione mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un commento e mettete un mi piace ciao ragazzi ciao